La ripresa economica e l'espansione dell'Europa cristiana. Vediamo gli argomenti di questo video. Si estendono le terre coltivate e migliorano le tecniche di coltivazione. Si sviluppano i commerci e le città, le città marinari italiane, l'Europa si espande, le crociate, mappa concettuale, la ripresa dopo l'anno 1000. Si estendono le terre coltivate e migliorano le tecniche di coltivazione. Nel X secolo la popolazione dell'Europa cominciò ad aumentare e la crescita accelerò dopo l'anno 1000. Vediamo questo istogramma sull'andamento demografico. Vedete che tra il 200 fino al 600, gli ultimi anni dell'impero romano d'Occidente e l'inizio del medioevo, è stato un periodo di regresso demografico. Invece dopo è iniziato un periodo di crescita demografica soprattutto dopo l'anno 1000. Aumentarono le terre coltivate mentre si ridussero i boschi e i terreni incolti. Migliorarono le tecniche agricole e in particolar modo si coltivò seguendo la rotazione triennale che permetteva di utilizzare meglio i campi. Qui abbiamo una rappresentazione della rotazione biennale, quella in voga prima dell'anno 1000. Fino all'anno 1000 si praticava la rotazione biennale delle culture. Metà del campo era coltivato a cereali, l'altra metà era lasciata a maggese a riposo, cioè l'anno dopo le parti ruotavano e anche l'anno dopo ancora. Veniva sfruttata dunque solamente la metà del terreno disponibile. Dopo il 1000 ha preso piede la rotazione triennale delle culture che la vedete rappresentata sulla sinistra. Un terzo del campo era coltivato a cereali, un terzo ha legumi e un terzo era lasciato a riposo, cioè maggese. L'anno dopo le parti venivano invertite, il terzo anno le culture ritornavano nella situazione iniziale. In questa maniera venivano sfruttati i due terzi, non solamente la metà del terreno. Tra l'altro sfruttato così il terreno manteneva i suoi principi nutritivi più a lungo, era quindi più produttivo. La produttività dell'agricoltura migliorò anche grazie ad altre tecniche come l'aratro pesante, l'erpice, gli zoccoli, i mulini a vento e ad acqua. Questo che trovate rappresentato l'aratro pesante, trainato da animali dotati di gioco rigido, aveva le ruote e due lame di ferro, il coltro spaccava le zolle, il versoio rivoltava il terreno in profondità. Qui abbiamo invece l'erpice, formato da tante lame che sminuzzano le zolle dopo il passaggio dell'aratro, mentre gli zoccoli dei cavalli sono ferrati per sfruttare meglio la forza dell'animale. Dopo l'undicesimo secolo si diffondono i mulini ad acqua per la produzione di farina e olio, i mulini a vento vengono introdotti a partire dal dodicesimo secolo. Iniziarono a migliorare anche le condizioni di vita dei contadini. Si sviluppano i commerci e le città. Con l'aumento della produzione agricola fu possibile accumulare riserve alimentari e venderne una parte. Sorsero così nuovi mercati nelle città o subito all'esterno delle mura, cioè nei borghi. Questo che vedete in primo piano è un borgo, invece vedete più avanti la cinta muraria con dentro la città e anche il castello. Ricominciarono a circolare le monete, prima d'argento e poi d'oro. Rifiorirono le città e la loro popolazione aumentò. Intorno al 1200 le regioni d'Europa con il maggior numero di città erano la Germania del Nord, le Fiandre e l'Italia e le troviamo rappresentate in queste cartine in cui i vari puntini rappresentano proprio le città. Le città marinari italiane. In Italia si svilupparono per prime le città della costa, in particolar modo Amalfi, Venezia, Genova e Pisa, che si dedicarono al commercio e si resero indipendenti da imperatori o feudatari. Ecco qua gli stemmi delle quattro città, Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, le repubbliche marinare. Il loro sviluppo fu favorito dalla loro posizione geografica al centro del Mediterraneo. Le città marinare a volte si alleavano fra loro contro nemici comuni, ma più spesso furono in guerra l'uno contro l'altra e questa fresco rappresenta una famosa battaglia fra pisani genovesi fino al 1200. L'Europa si espande, le crociate. Nel 1095 Papa Urbano II invitò i cristiani ad armarsi per liberare la Terra Santa, cioè i luoghi dove era nato e vissuto Gesù, dall'occupazione dei turchi Seljukidi. La primavera crociata fu guidata da Goffredo di Buglione e portò alla conquista di Gerusalemme. Ecco qui l'itinerario della prima crociata. In rosso gli spostamenti delle truppe cristiane. Tuttavia sia Gerusalemme sia gli stati cristiani d'Oriente tornarono presto in mano islamica. I turchi erano infatti musulmani. Le crociate furono in tutto otto e si susseguirono fino al 1270, ma portarono vantaggi soltanto alle città marinare italiane e in particolar modo a Venezia. Ecco qui gli itinerari delle altre crociate. La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. E queste sono erotte dei convogli navali delle repubbliche marinare italiane che vedete quindi sono state molto coinvolte, molto attive all'epoca delle crociate. Concludiamo con una mappa concettuale. La ripresa dopo l'anno 1000 c'è stato un aumento demografico che ha portato a una maggiore richiesta di cibo, una maggiore disponibilità di lavoratori. Le conseguenze sono stato un miglioramento delle tecniche agricole e la rivoluzione agricola che ha portato ad un aumento della disponibilità di cibo, che ha portato a una diminuzione della mortalità e a una diminuzione anche delle malattie, le quali a loro volta hanno influito sull'aumento demografico. È stato quindi un circolo virtuoso.